Io avevo fatto due anni fa una promessa e non ne possiamo più dei politici che in campagna elettorale fanno le promesse e poi scompaiono. E quindi è stato un dovere etico e morale mantenere gli impegni e io mi auguro che questo futuro è una vita degna. E' l'istituzione delle scuole professionali regionale e questo garantirà finanziamenti, centralità e futuro per tutti voi. Vi dico non perdete la fiducia, non perdete la speranza. Per noi poi tra parentesi in quei dati questi ragazzi ci rientrano tutti perché dove vengono collocate molto spesso le scuole nelle periferie, insomma il disangelo sociale è molto. E lo tirò questa carta, il cappellino, il rosso, lontano, luce, perfetto, credo. E' bellissimo.